Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove si segnalano code per il traffico intenso in uscita a Firenze in Pruneta provenendo da Bologna. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. La statale 223 di Paganico è attualmente chiusa per un chilometro e mezzo in direzione Grosseto all'altezza di Campagnatico per uno smottamento. Per la viabilità metropolitana fiorentina sono interrotte le strade provinciali 610 e 58 nel comune di Firenzuola, 306 nel comune di Palazzuolo-Sulsenio, 29 e 20 nel comune di Marradi. La strada provinciale 477 verso Palazzuolo-Sulsenio è interdetta ma transitabile per i mezzi di soccorso. Ed è tutto, buon viaggio!